Tra la musica e l'arte vai che si parte è il tuo secondo giro il regista sei tu Nella vita tutti quanti dovremmo avere l'opportunità di fare un secondo giro tra la musica e l'arte per aggiustare le cose e per cambiare il destino Cosa resterà di questi anni Ottanta Professor, voi che li avete vissuti questi anni Ottanta? Ma com'erano, com'erano? Innanzitutto, eravamo mani da stringere, non profili da aggiungere Cosa resterà di questi anni Ottanta Non c'erano i social, ci incontravamo, stavamo sempre insieme c'era il senso della famiglia Che porta a sé Per innamorarmi basta un'ora Che fredda c'era Maledetto primavera Che fredda c'era Se fa male solo a me Perdere una donna e avere voglia di morire E vorresti urlare Rinnegare il cielo Prenderà sassate Tutti i sogni ancora in volo Li farò cadere ad uno ad uno Spezzerò le ali del destino E ti avrò vicino Professor, stiamo facendo il secondo giro Perché la vita a me, almeno un sogno, me lo deve ancora